Quando si parla di infortuni sul lavoro viene subito in mente il comparto edilizio. In realtà gli incidenti avvengono in qualsiasi settore, anche soprattutto sulle strade, dove spesso e volentieri purtroppo si registrano infortuni e danni sia degli operai sia degli stessi automobilisti. Ciò accade quando non si rispettano le regole o quando si agisce con superficialità. Per evitare tutto questo la Cisla Bruzzo Molise ha organizzato un incontro ai Sernia per dare una serie di suggerimenti e indicazioni utili agli addetti ai lavori, ha spiegato il segretario Giovanni Notaro. Si continuano a contare incidenti e infortuni sul lavoro, sia che siano essi lavoratori addetti magari a fare proprio cantieristica, quindi noi abbiamo coinvolto la nostra federazione degli edili, siano essi autotrasportatori, quindi c'è la categoria dei trasporti, ma anche capita ancora a autisti in generale, quindi cittadini. Per cui l'iniziativa è tesa sicuramente a sensibilizzare su alcune tematiche e anche a tarare determinati comportamenti e soprattutto al rispetto delle regole. All'incontro è intervenuto anche il direttore regionale dell'INA, il Rocco del Nero, che ha evidenziato l'importanza del rispetto delle regole e la necessità di sensibilizzare gli operatori del settore su tematiche così importanti. Bisogna osservare le regole e rendersi conto che se c'è un cantiere si può mettere a repentaglio la propria vita è quella degli addetti al cantiere. Spesso anche gli addetti al cantiere non si rendono conto che il cantiere stradale è un cantiere molto particolare, dove al rischio tipico del cantiere edile o di manutenzione del verde si aggiunge quello della circolazione stradale. Certo è che non tutti i cantieri rispettano le regole alla lettera, la segnaletica carente o un cartello messo male finisce per disorientare l'automobilista che così rischia di fare incidente, ha detto il ispettore superiore della polizia stradale di Sernia, Raffaele Manuppella. Mettono della cartellonistica che non è coerente con il luogo e quindi crea turbativa notevole all'utente della strada che arrivando sul luogo del cantiere diventa titubante. Abbiamo delle statistiche che evidenziano che i quartieri stradali, essendo una turbativa la circolazione, effettivamente creano quel minimo di turbativa e quindi sono con causa nell'evento infortunistico.